Tanti complimenti, io vorrei qua a fianco a me presentarli uno per uno a questi membri dello staff Lucio Garzia, coordinatore tecnico Silvia, la segretaria del campus insieme a Lella Angelo Zadina, che è colui con cui abbiamo aperto questo campus 5 anni fa insieme a Lucio Lo staff, gli educatori Giampiero, Gianno, Martina Cianieri, Sofia Violetti, Silvia Gazzardo, Francesco Tampico, Angelica Strella, Pia Raccani, Isabella Piazza DJ Dex è al suo posto, Giuseppina, Dallo, tutto lo staff tecnico dei Croni, lo staff non ci sono qua ai fiduciari locali, Bellini, Malocco, Mazin Questo è il gruppo che da 5 anni per un circo si presenta a tutte le stati qua in Pia Noi vogliamo, già stiamo pensando al prossimo anno ai numeri da inserire